Berdo ragazzi, berdo in questo nuovissimo video Io sono Pigiotti e oggi siamo qui Siamo qui per Ferrovi Oggi è finita, si è appena concursata Quarta giornata di Serie A Il Milan ha vinto per 2-1 sull'Udinese Allora, abbiamo Diciamo sofferto, ma non troppo Hanno fatto qualche azione e ci hanno messo paura Però non abbiamo sofferto troppo Abbiamo comunque giocato molto bene Da grande squadra, da grande gruppo Allora, doppietta di Kalic La partita inizia con Un gol di Lasagna annullato Per il fuorigioco Hanno fatto il VAR E hanno annullato il gol Poi segniamo noi con Kalinic Poi un errore difensivo di Romagnoli Regala palla a Lasagna Che davanti a Donnarumma non sbaglia Ed è 1-1 Poi facciamo il 2-1 subito dopo con un calcio d'angolo Torre di Kessi Kalinic fa 2-1 A quel punto Poi la partita molto lottata al centrocampo Alcune azioni danno parte dall'altra Alla fine Kalinic verso l'85esimo Segna il gol Segna il gol però Vediamo che fuori gioco Quindi anche lì per il VAR Annullano il gol Poi Niente Finisce lì la partita Allora niente Il Milan abbiamo veramente giocato bene Sono contento di questa vittoria che serviva Ora siamo a 9 punti Le altre big stand a 12 Ossia Napoli Juve E Inter Quindi Niente Va molto Va molto bene Anche se L'unico esame L'unico vero esame Quello con la Lazio L'abbiamo perso Abbiamo giocato con il 3-5-2 Che è un modulo che sembra Che veramente sta Sta rendendo bene Oddio abbiamo giocato contro Austria Vienne e Udinese Però comunque sembra Che sta rendendo bene Perché Praticamente Abbiamo in porta Donna Roma Poi hai Bonucci che è il re Della difesa 3 Senza ombra di dubbio Accanto a Musacchio e Romagnoli Che sono due buonissimi Difensori Da mettere appunto Al centro Bonucci Musacchio e Romagnoli Come dire Come altri due Poi a centrocampo Dei 5 Abbiamo Conti Effettivamente sappiamo Che si è rotto dai 4 ai 6 mesi Per 6 mesi Quindi non possiamo farci niente Ma ora abbiamo Calabria Che comunque questa partita Ha giocato molto bene Poi Che sì Che sì Che è veramente Un interditore Un gattuso praticamente Un cagnaccio In mezzo al campo Che recupera Un casino di pallone E fa magari Qualche azione Poi Biglia Che senza ombra di dubbio Deve essere l'unico regista Del centrocampo E non Biglia e Montolivo Due registi Bisogna mettere Solo un regista Il regista secondo me È Biglia Biglia ha giocato Veramente molto bene Ha toccato molti palloni Anche se abbiamo Biglia e Bonucci Che si schiacciano i piedi Ogni volta Che devono fare Che devono far parte In relazione Perché ci sono stati Molti lanci di Bonucci Ma anche molti di Biglia Perché sappiamo Che Bonucci e i piedi Comunque da regista Poi Accanto a Biglia C'ha Lanoglu O Bonaventura Che sono due ottimi Giocatori Che devono qualità A centrocampo Qualità e quantità A centrocampo Uno dei due In genere Ora gioca C'ha Lanoglu Titolare Ora gioca Bonaventura Contro Ludini Si è giocato Bonaventura Ed è andata Ha giocato molto bene Poi però tipo Al sessantesimo È entrato È entrato C'ha Lanoglu Poi a sinistra Abbiamo Rodríguez Che è un ottimo difensore Con degli ottimi piedi Ad esempio Tira sempre le punizioni Qualche rigore Lo può essere Che lo tira lui Quindi ha degli ottimi piedi Veramente Poi In attacco Suso Che fa Un po' Il Papu Gomez Nell'Atalanta Quando giocavano Col 3-5-2 L'Atalanta Come il Papu Gomez Dietro la punta Che in questo caso È stata Canes Ma può essere anche Andresilva Può essere anche Cutrone Può essere anche Cutrone Anche se Cutrone Non lo è Non penso Che non lo sarà più È entrato In questa partita Non ha fatto nulla di che E quindi niente Poi Andresilva E Kalinic Sono i due titolari Ha giocato Kalinic oggi È veramente segnato Sono due veri bomber Andresilva Secondo me è un po' Più forte di Kalinic Però Kalinic È il bomber vero Poi Allora Quindi niente 2-1 Ottimo Non ci fate caso Alle luci che si spengono E accendono Quindi niente Ottimo Ottimo Mila Mi è piaciuto Quindi Questo video finisce qui Spero che vi sia piaciuto Sicuramente mettete un like Fatevi solo Iscrivetevi Noi ci vediamo Pace Ciao